e diamo la parola al sindaco di Savona anche qui dopo vent'anni è una città che ha deciso di aprire le sue finestre quindi benvenuta al sindaco di Savona un applauso e l'applauso della piazza anche per lei grazie Matteo e grazie Firenze veramente è un sogno essere qui sono sindaco solo da sei mesi quando sono scese in campo nessuno ci credeva Savona è una roccaforte del PD tutti mi dicevano ti piace perdere no non mi piace perdere io mi sono impegnata siamo andati tutti insieme perché tutti uniti possiamo riuscire a vincere anche in posti come Savona dove l'arroganza del PD è veramente segno della sua impunità ce l'abbiamo fatta abbiamo vinto dopodiché ci siamo dovuti rimboccare le maniche perché a Savona come in molte altre città governate per anni decenni dal PD abbiamo trovato solo macerie un bilancio disastroso situazioni dove dovevamo rimboccarci le maniche ma soprattutto situazioni che subivamo subivamo come quella dei migranti io sentivo il prefetto che mi chiamava e mi diceva anzi mi imponeva che dovevo aprire un hub non ci siamo stati abbiamo dialogato ma ci siamo anche imposti per questo e abbiamo vinto perché noi io ho dato il mio cellulare a tutti i miei elettori a tutti i cittadini non ho voluto il cellulare di servizio l'iPad di servizio non voglio niente dallo Stato voglio però guardare in faccia i miei cittadini e poter dir loro che li difendo e li proteggo perché io cammino tutti i giorni per la mia Savona e io posso dire che proteggo i miei cittadini quindi no a questa riforma che umilia ulteriormente le autonomie territoriali umilia ulteriormente tutti noi che viviamo nella nostra città e sappiamo le problematiche che vive la nostra città il governo è lontano il governo non comprende che cosa c'è e che cosa non va nelle nostre città quindi io sono per il no a questa riforma che è totalmente sbagliata nella sostanza ma anche nella forma perché sembra un decreto mille proroghe pieno di rinvii di rimandi insomma posso anche dire d'avvocato questa riforma è veramente una schifezza grazie